L'unica cosa che conta è vincere, come dicono alla Juventus. Io ho parlato tante volte dell'argomento qua. Io penso che il mondo è sempre più esigente e così i tifosi sono più esigenti. Non ti basta stare là dietro e speculare. E dimostra anche il campionato Serie A, che si fanno sempre più gol, si va sempre più attacco. Perché è così? Perché cambiando il mondo, ho cambiato il mondo generalmente, ho cambiato anche il calcio. Io sono in quella direzione là, che si fa, praticamente il calcio si fa per tifosi. Poi è giusto che il risultato ti determina, perché puoi anche perdere il lavoro. Però se c'è da scegliere, vinco 4-3 o 1-0, io voglio 4-3. Grazie.